Ospedali minori ancora a rischio in Abruzzo. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle che si scaglia contro l'immobilismo della regione che rischia di far scadere i termini per derogare al decreto Lorenzin e salvaguardare gli ospedali minori. L'attuale governo regionale di centrodestra recentemente insediato si sta perdendo tempo prezioso in continuità con quanto fatto finora dal centrosinistra, ha dichiarato il pentastellato Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, che torna anche a contestare i disservizi e sprechi della sanità pubblica a scapito dei cittadini. Questa amministrazione regionale di centrodestra in continuità col centrosinistra non ha ancora presentato un piano di riordino della rete ospedaliera, non ha ancora usufruito delle deroghe governative e quindi si sta lasciando scadere il tempo delle deroghe per riclassificare, riaprire e potenziare quindi l'ospedale di penne e l'ospedale di popoli. Questa è una cosa gravissima perché se scade la deroga poi penne e popoli non si possono più salvare, quindi perché non stanno facendo nulla? Se prima l'amministrazione del PD aveva declassato e depotenziato dieci ospedali, nulla sta facendo il centrodestra per ripristinarli, riclassificarli. Addirittura l'utenza che non trova più accoglienza nei presidi di penne e popoli è costretta ad entrare nell'ospedale di Pescara che non riceve più, è ingolfato, non solo. Abbiamo i cosiddetti imboscati, circa 60 persone tra infermieri e operatori sociosanitari fuori posto che hanno vinto un concorso per stare nei reparti, se ne stanno negli uffici amministrativi. I grandi sprechi permangono, tali con il centrosinistra, tali con il centrodestra. La PET-TAC per 15 anni si è pagato 15 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che costa un milione e mezzo di euro. Il polifunzionale RX, un'apparecchiatura per fare i raggi, è ancora parcheggiata presso il distretto sanitario di Pescara Nord imballata, non funzionante. Poi ci sono liste d'attesa lunghissime, non solo. La famigerata palazzina che è costata tre volte tanto alla AS è ancora lì in abbandono. Anche con il centrodestra permane così. Siamo scesi, devo dire, a un girone dantesco infernale dell'ospedale di Pescara. Nei sorterrani insiste anatomia patologica, l'ufficio di sterilizzazione e igienizzazione. Non rispondono neanche alle normative igienico-sanitarie. La sala settoria, dove si svolgono le autopsie, insiste all'interno del reparto di anatomia patologica in una stanza attigua a dove vi sono impiegati amministrativi che si vedono passare davanti cadaveri. Ecco, tutto questo è la sanità d'Abruzzo, la sanità pubblica abruzzese. Cosa sta facendo il centrodestra, l'assessore regionale della sanità, il presidente Marsiglio? Due facce della stessa medaglia, col centro-sinistra. Se ci sono battono un colpo.